Arolda, non so quali siano le tue intenzioni. Mi scusi, Salve. Hai un bianco morto dentro una cassa. Non ba la cassa. Non c'è neanche il coperchio. Una nuda cassa di legno di pino. Chi finirà nei guai? Fammi un favore. Cerca di essere ottimista. Non arrivi qui. Se non è tutto iniziato molto tempo fa. Allora, due soldati e un'infermiera si ritrovano a... Amsterdam. Abbiamo stretto un patto e giurato di proteggerci a vicenda a qualunque costo. Ci troviamo nella situazione di essere accusati di aver ucciso qualcuno, il che non è vero. Tu e Woodman siete fuggiti. Il killer ci ha puntati. Non abbiamo fatto niente. Perché dovrebbe pensare che siamo stati noi? Beh, non sono in molti a corrispondere alla descrizione di un medico che cerca il suo occhio per terra con il suo avvocato nero. Columbia Law School. Ci serve qualcuno che ci aiuti a trovare la verità. Il mio amico è stato ucciso per qualcosa di mostruoso che aveva visto. Questa cosa si sta rivelando molto più grande di tutti noi. Dovrete fare come dico se volete uscirne. Ho pugnalato uno e colpito una donna con un mattone una volta. Cosa? È una lunga storia, ma con voi due sarà una passeggiata. Sono tempi pericolosi. Sii prudente. Sto per fare qualcosa che potrebbe costarmi la vita. Il cuculo è nel nido e il cuculo finirà in trappola. Cuculo? Questa è una delle migliori innovazioni di Zurigo. Rimuove ogni dolore. Quelli come me devono ricorrere all'alcol, alla morfina e il che crea dipendenza. Oh, questo è veloce. È un altro livello.